Uh, le reliquie Mi piacciono, due reliquie nello stesso posto Andiamo qui No? Qui, avamposto a Manaki Che è quello che abbiamo conquistato per primo, se non sbaglio Se non sbaglio Sottolineo se non sbaglio Che se sbaglio poi Mi linciate Sì sì, è il primo Torna dentro Che devo vedere un po' di cose, vediamo se possiamo prendere il super cannone La bestia Eh, attento lo salviamo, grazie E salviamo di mio Che fa sempre a modo mio Ehm, qui Allora, 1400 Ora vendi subito Eh, non mi se, non mi se Mi basta, no? Cannone Armi uniche Oh, non mi se, quanto cacchio costo Però una bestia Mi sembra giusto Però io ho 2200 E devo prendere munizioni anche Munizioni sono indispensabili Ah, così poco Interessante, interessante Mh, ad esempio Fucili da ass... no, se ne frega Decisione, no? Qui, posso personalizzare ancora in qualche modo? No Potremmo colorarlo? Non voglio colorarlo Ok Non voglio colorarlo Vediamo come Luca Poi andiamo a fare anche quest'altra missione Poi andiamo a fare anche quest'altra missione Così almeno ho più di episodi da parte, va Sì Decisamente più figo Vabbè, poi con la grafica adulta Di far cadere tutta un'altra storia Mi cerca tantissimo di non poter... Cioè, guarda qui che grafica Pazzesco Un maiale? Non voglio saperlo Perché se poi fosse un maiale Lo fapperei Uh, una tigre Estermina i cani rabbiosi Prima che ucciono di nuovo Nah Questo? Un pirata? Nah Perché dovrei ammazzarlo Con i fapper Allora, prendiamo Una macchina Anzi, prima selezioniamo il posto Interagisci Io pulgo È a fapper Ma l'aiuto Mira Mira e orla Da Le gustalo Che non so che vuo di Ma lo dice la versione figola Di fare project quindi Probabilmente lo pieno di tu Mi piace ciasc Ssss No Non credo Aia Andiamo ma che Non è un 4x4 questo E nemmeno un 1x1 se non riesce a fare manco Un pizzico di salita Sfruttiamola No Senti io ti voglio sfruttare Che detto così potrebbe sembrare una brutta cosa Ma non lo è Lo giuro 120 metri Posso bruciare qualcosa Oh si che posso Oh che figata Dovrei smetterla lo so Lo so lo so Lo so è che Ti odio Reliche penso che siano Oddio cos'è un burrone Non voglio avvicinarmi Dopo mi fa da questo Ci sono diamantucci Penso di si Oh si diamantucci Let me in let me in Why don't you let me in Ah è una finestra No non è una finestra Diamanti Ucci 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 diamantucci Ci sento odore di fa perucci Ok that's good Vai Che posizione stai ma ti rendi conto No no stupida magia Spero non ci sia più magia dopo Come Neanche un ciao Che brutto Ora di storia No Ora di storia La tomba del capitano Lin Kong La leggenda narra Che si prese delle fisse da faraone Se la fece costruire dagli autotoni Prima dell'arrivo di Zenghi Nessuno sapeva dove fosse Ma Per me Cosa Come Dove Oddio sei pazzo Vuoi che io mi butti Ma mi butti Qui Da lì Che è più alto Ma che so scemo io Ma boh Salta nel cenote Cenote Oddio Su serio Why I do not like this Noti di Venabit Geronimo Sai 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 Trova l'ingresso Vabbè me lo indichi te Grandissimo Cos'è sott'acqua Ah no si sale Interessante proprio Migna Vauna Dov'è Ah no Sa che è sott'acqua E invece no È una caverna No Sott'acqua Ah no si sale Stupido Surra Si sale ancora Perché qui ci sono altri Anche no Non credo Oh 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 E suona il telefono Speriamo ci sia qualcuno Figata assurda Ora torniamo a casa Yeeeh Cioè a casa Eh magari Dai Interagiamo Checkpoint Non mi piace quando faccio il checkpoint Vuol dire che c'è la possibilità che io possa morire Vabbè nemici Non ce ne sono di sicuro Quindi Guarda quello sono Sicuro Perché soldi No non ci possono essere nemici No senti amico non ha senso Io per entrare qui ho dovuto Metterci la bussola O sbaglio Che posto di merda A mio Dio Fa' un culo Fa' un culo a te Devo so dire per forza L'altro amico non lo vedo da qui Bene ci sono anche dei cani Ah no effettivamente non ho messo la bussola per entrare Quindi That makes sense Non credo Stupido cane Io ho sempre odiato i cani Non è vero Io amo i cani Oh che cacchio Un tizio pesante All right shot bitch Posto? Nessun dice Wow non è vero Quickscope Motherfucka Dimmi che è delle granate Vaffangala Non ha granate Wow That's a quickscope Motherfucka Ah no That's not a quickscope I mean what the fuck are you serious? Guarda se non tu hate marker E dove chiamare dread Ancora? Ok ho capito What the fuck this is some funny shit Vabbè qua non posso salire quindi Ma sei serio? Eh no Mi sembra quanto cacchio vive No guardami cacchio Uh se io faccio Quella è una molotov Ne sono sicuro Ah no Ah no forse la posso raccogliere Ecco perché Ti vuoi alzare? Grazie Mi sembra un casino di problemi Oddio Spero tu stia scherzando Non vorrei mica che io mi butto da lì Ah eccola dove prendo le molotov Genio di un surreal Queste sono bottiglie di vino Perfetto Perché ho l'impressione che da l'altra parte ci sarà una media di gente ad aspettarmi Eh non lo so perché guarda Iniziata a scarcare Ecco E se io vado con la mia miticissima e simpaticissima macchina fotografica Così lo posso ammazzare Ok No that's pretty cool Usa cavo Ah non mi piace Checkpoint perché Oh no miseria guarda ci sono i tizi lì Oddio quanta gente c'è Ma voi siete pazzi se pensate che sul serio Oh granata Vaffangala Curati 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 Aia Segui dei granate A posto Sei sicuro Non è che poi mi muori Dove è il tuo tizio Ho visto un Ah eccolo Vabbè questo è un lavoro d'assuro il cecchino No cos'è Andiamo Non vorrei mica chiamare i dratti sul serio Ok Oh guarda c'è un cavo Buono mi piacciono i cavi Eh i cavetti Sì Ah Ok C'è altra gente Qui sono morti Interessante Qua c'è l'altra parte Ah c'è un cavo Interessante Sennò mi sarei buttato probabilmente Porco demonio curati Oh Non mi piace Perché mi hai dato quello Vuol dire che ci sarà un casino di gente Non mi piace quando c'è un casino di gente Perché dopo Dove dobbiamo andare Oh Munizioni a bestia Non mi piace nemmeno questo Dove dobbiamo andare Ah Mi sa che devo scendere Come acido Eh ok Non l'ho preso in testa Come scendo Di qua Dove è altra gente C'è altra gente Non penso Oh porco demonio Vabbè Io vado sulle torri Qui sono al sicuro no Niente granate No Quanto vale Non ho abbastanza Per il gioco E ora Usa il punteggio Ponteggio Attraversa le terme You are crazy Ah Voglio affapparmi il tizio Wow Questo forse mi fa Pappa Non mi piace Non mi piace Dove dobbiamo andare là No Col cacchio Lo voglio Ah Era un medikit Manco sto casino Checkpoint Aia Dai L'ho ammazzato Vuol dire Vuol dire Se è ancora capace Di stare in piedi Dopo che l'ho colpito Così Nella vita reale Vabbè Qua ci abbiamo la magia Non facciamo parlare Di vita reale Vero Adesso 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 le terme di nuovo Oh Open gunnam style Di andare lì Ok That was not so hard Non era così duro Oddio Ah Sento voci Non mi piacciono Questo è per me Ti ho Me li saccheggio tutti Grazie Un caricatore? Nell'italiano Basterebbe un Ah giusto Magia Ah Qui posso Ci posso entrare Solo io Qua sono sicuro Qua devo metterci La La bussola Durida Bene bene Eh ne è bloccata Ah no Ok si passa Qua si sale Si Ok Eh Oh my god Eh E come faccio Ad arrivarci La Oh Ahi dai Come si arriva Devo andare lì Poi lì Poi devo andare lì Oh cacchio Ah Ah no Che pensavo di essermi bugato Oh cacchio E come faccio Come usiamo la macchina fotografica Se io vado lì Poi salto Lì Dove fare il giro per di lì Vabbè Non ci provo Veloce Veloce Ce l'ho fatta Oh cacchio si Visto? Visto? Non ci può fare niente Finito vero Non è che devo fare la trastrada Oh cacchio Devo fare la trastrada Ah no ok siamo qui Sali Ok ok Qui non ci viene nessuno da accertare Per fortuna se non è stato conseguentavalti nemici Ah Mmm Perché la magia Noi c'era una special plate Sì diciamo così Così non mi viene male Ah non mi piace Fa troppo rumore Trovo il vero ingresso Dalla raga fomba Ah guarda Dove sarà mai? Lì? Lì sopra? Ah non credo Dove Ah tu guarda È un buco Non mi piace Questi rumori Mmm Questi sono draghi Oh fap E vaffangale eh Vabbè Equipaggiamo il pompone Pompone Oh cacchio qua non si sale più Chi? Oh vaffangale Morti tutti? Sì Ok Tieni il motore per interagire Abbiamo sta tomba Quindi la tomba c'è il coltellazzo Si spera Oh sì Coltellazzo is the way Coltellazzo is the way Eccoti qui Eh namizè che cos'è Oddio corri corri Che cos'è No 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 Non mi piace Oh Oh è destra Destra sinistra Destra sinistra Destra sinistra Destra Sinistra Destra Destra Eh namizè che cos'è Ma siete pazzi voi Namizè che cos'è Oddio Ma non lo so Oh sì Non sei qui Questa volta no L'hai trovato Il pugnale La tomba? Sì Ho il pugnale Arrivo Ci vediamo da me Da me in dove? Brutta sorpresa Perché si chiama brutta sorpresa La missione Sei serio? No dimmelo Riduci i danni da fuoco Del 50% Non mi sa che mi sarà utile Zofilo No zoologo Che ridere Che ridere Lo voglio Ah naturalmente salviamo Perché vaffangala Non vorrei mai perdere Una roba del genere Ok Dove dobbiamo andare ora? Omanaki No No Ah Bet down di nuovo Oh mamma mia Ma penso che lo faremo Nel prossimo episodio Perché qua mamma mia Mi sta venendo male Oddio Mi sta venendo male Brent è tutta colpa tua Non potrò più parlare Come una volta Anch'io parlavo bene come voi Poi ho incontrato Brent Adesso è un buonattino È facile Bene Per questo è già tutto Io vi saluto Ciao Tutto 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 Tutto